Della masacche sappiamo inoltre che contiene vitamine del gruppo B e ferro, poi è un prodotto fermentato e quindi un ottimo prebiotico per il nostro intestino perché va a nutrire i ceppi di batteri benefici che ci ricambiano con la produzione di acidi grassi e catena corta che sono le sostanze antinfiammatorie e riparatrici del nostro organismo. Per quanto riguarda il sapore la masacche ha un leggero gusto di riso e di tostatura diciamo il classico sapore del riso integrale che può andare dal pane appena sfornato a un vago sapore di nocciola ecco e però è molto lieve quindi comunque rimane un ingrediente dal sapore piuttosto neutro che si lega un po' con tutto e per quanto riguarda invece il grado di dolcessa non ci dobbiamo aspettare la crema pasticcera che è esageratamente dolce per chi si è tra virgolette disintossicato dallo zucchero ma comunque la masacche rimane un ingrediente dolcificante piuttosto potente che può ben sostituire creme e dolcificanti ecco quindi è un prodotto molto versatile che fa bene e quindi se lo troviamo perché è un po' difficile da reperire se non online è un ingrediente che può essere molto utile per chi soprattutto ha malattie infiammatorie o autoimmuni. Grazie